Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Anglo Creatività di Enza. In questo tutorial realizzeremo insieme questa graziosa borsettina da polso, molto pratica e allo stesso tempo anche molto elegante. Si realizza in pochissimo tempo e inoltre necessita di poco materiale. La potete personalizzare in base ai vostri gusti e la potete anche abbinare in vari modi. Vediamo cosa ci occorre per realizzare questa borsetta. Allora, per realizzare la mia borsina io ho utilizzato un fondo per borse che è largo 11 cm, mentre invece è alto 5 cm. Poi ho utilizzato della fettuccia, questa qua un po' elastica, però voi se avete un altro tipo di fettuccia va bene lo stesso. Potete anche usare del cordino oppure della lana. Poi andrò a lavorare questa borsa con due numeri di uncinetto. Userò l'uncinetto numero 4 e un uncinetto numero 6. Ci occorreranno anche dei segnapunti. Poi utilizzerò questo accessorio, è un cilindro che è tutto brillantinato, che io andrò a usare per fare la chiusura della borsa. Poi ci occorrerà un moschettone, questo qua abbastanza grande, questo qua abbastanza grande con un anellino. Poi ci occorrerà un lembo di catenella. Io userò questa catenella qua metallica, in modo tale che gli anellini si possano aprire facilmente. Poi ci occorreranno delle forbicine e delle pinze. Quindi questo è l'occorrente per realizzare la borsa. Ora andiamo al tutorial. Allora, con la fettuccia e l'uncinetto numero 4, iniziamo ad infilare il nostro fondo. E inizieremo da uno di questi due fori qua, centrali, del lato più corto. Lavoreremo con il primo giro, con l'uncinetto numero 4, solo il primo giro. Poi perché dobbiamo prendere le maglie, quindi l'uncinetto più piccolo in questi fori entra meglio. Poi proseguiremo con l'uncinetto numero 6. Allora, andremo a lavorare una maglia bassa in ognuno di questi fori, tranne che per i fori che si trovano agli angoli. In questi quattro fori angolari andremo invece a lavorare due maglie basse. Iniziamo. Faccio passare l'uncinetto nel foro ed estraggo la fettuccia. All'inizio sarà un po' difficile perché i fori sono abbastanza stretti, quindi dobbiamo metterci un po' di pazienza per far passare la fettuccia. Poi con i giri successivi il lavoro sarà molto più semplice. Quindi lavoro una catenella e lavoro un'altra maglia bassa nel foro successivo. senza tirare troppo il filo, lavoriamo in modo molto morbido. Ora, nel foro qua, ci troviamo nel foro dell'angolo, andremo qua a lavorare due maglie basse. Quindi una e due. E proseguiamo a lavorare di nuovo una maglia bassa in ogni foro. All'inizio è un peGGIO sure materiale s chamof� uno Non è stato un po' carattaccia. ecco che siamo arrivati quasi anche all'altro angolo in quest'altro angolo vedete come viene la lavorazione andiamo a lavorare altre due maglie basse quindi una e due e proseguiamo a lavorare una maglia bassa in ogni foro quando arriviamo all'angolo qua lavoriamo due maglie basse insieme proseguiamo a lavorare una maglia bassa in ogni foro nel foro, l'ultimo foro qua di quest'ultimo angolo andremo a lavorare due maglie basse e poi vi faccio vedere come poter chiudere il giro allora arrivati all'ultimo angolo in cui abbiamo lavorato le ultime due maglie basse insieme ora andiamo a lavorare un'ultima maglia bassa nel foro dove abbiamo iniziato il lavoro dove abbiamo lavorato la catenella quindi lavoriamo anche qua una maglia bassa e in questo modo abbiamo completato tutti i fori ora dobbiamo cambiare l'uncinetto quindi dobbiamo posare l'uncinetto numero 4 e prendere l'uncinetto numero 6 ora dobbiamo fare un giro a punto coste una mezza maglia alta però presa in coste cioè invece di prendere tutta la mezza maglia alta come siamo abituati a fare in questo modo infatti già vi ho fatto vedere anche in altri tutorial come fare invece di prendere la maglia qua la maglia coste la andiamo a prendere qua prendiamo solo la costina dietro quindi facciamo passare il filo sull'uncinetto che dobbiamo lavorare una mezza maglia alta puntiamo l'uncinetto dietro alla maglia e lavoriamo una maglia una mezza maglia alta ora una volta che abbiamo fatto questa mezza maglia alta andiamo a mettere il nostro segnapunti perché dobbiamo ricordarci dove iniziare e dove finire il lavoro anche se non andremo a chiudere a maglia bassissima perché andremo a lavorare a spirale quindi non chiuderemo a maglia bassissima però questo segnapunti ci permetterà di capire qual è il punto dove abbiamo terminato e dove dobbiamo iniziare il nostro lavoro proseguiamo a lavorare una mezza maglia alta in ogni maglia sottostante presa sempre in coste così e proseguiamo a lavorare a mezza maglia alta in coste per tutto il giro fino ad arrivare al nostro segnapunti allora terminato anche il giro a mezza maglia alta in coste il lavoro vedete che inizia a prendere forma ora io mi trovo qua dove sta il mio segnapunti quindi ho lavorato l'ultima a mezza maglia alta in coste tolgo il mio segnapunti e inizio a lavorare a mezza maglia alta presa in modo normale cioè presa per intero quindi lavoro la mia prima mezza maglia alta normale e rimetto il mio segnapunti e proseguo a lavorare a mezza maglia alta non più a coste ma l'andiamo a prendere per intero quindi dobbiamo proseguire a lavorare una mezza maglia alta in ogni maglia sottostante per tutto il giro e per il resto degli altri tre giri quindi in totale dobbiamo lavorare quattro giri a mezza maglia alta normale allora terminati i giri a mezza maglia alta questo è il risultato del nostro lavoro vedete fin qui la mia borsetta misura circa nove centimetri ora dobbiamo cambiare il punto e andremo a lavorare a punto basso in coste quindi andremo a lavorare un piccolo bordino con questo punto basso in coste in modo da poter stringere un pochino la borsetta sul lato superiore quindi infiliamo di nuovo il nostro uncinetto togliamo il nostro segnapunti e iniziamo a lavorare a punto basso preso in coste quindi prendiamo solo la maglia dietro e iniziamo a lavorare a punto basso in coste ora dimettiamo di nuovo il nostro segnapunti e proseguiamo a lavorare quindi in ogni punto sottostante lavoriamo una maglia bassa presa in coste proseguiamo in questo modo per tutto il giro e per gli altri due giri quindi andiamo a lavorare in totale maglia bassa in coste un totale di tre giri poi arrivati al terzo giro vediamo come chiudere la borsettina quindi proseguiamo a lavorare in questo modo e ci vediamo verso la fine allora ho terminato anche i miei giri a punto basso in coste allora prima vi ho detto che avrei lavorato tre giri a punto basso in coste invece poi alla fine ne ho lavorati solo due di giri perché tre mi veniva tra un po' troppo alta però va in base ai vostri gusti quindi se ne volete fare tre magari provate se vi piace altrimenti ne fate solo due quindi ora andiamo a chiudere il giro del tutto ho lavorato il mio ultimo punto basso in coste tolgo il mio segnapunti e vado a chiudere con una maglia bassissima presa per intero dove avevamo prima immesso il segnapunti così attiviamo ora non ci resta altro che andare a tagliare il filo nasconderlo per bene tra il lavoro e poi passiamo a decorare la nostra piccola borsettina allora io ho terminato di lavorare la mia borsettina ora devo andare a mettere la chiusura allora quando riguarda la chiusura potete anche mettere all'interno un bottone a calamita così che va a chiudersi in questo modo e magari poi decorarla con qualche fiore o quant'altro potete anche mettere un po' di velcro all'interno invece io ora andrò a chiuderla stesso con la fettuccia però ho messo ho fatto passare attraverso questo tubicino questo cilindro tutto brillantinato un po' di fettuccia e già mi sono presa la metà della borsa sia sul davanti che sul dietro ora faccio passare questi due lembi di fettuccia proprio qua attraverso uno di questi fori che si trovano alla metà della mia borsa quindi vado a togliere il mio segnapunti qua e faccio passare e faccio passare un lembo da un lato e un altro piccolo lembo di fettuccia da quest'altro lato vedete qua in modo tale che quando si incontreranno sul dietro andrò andrò ad unirli con un nodo così ora vado a fare un nodo all'interno in modo tale da poter fermare il tutto quindi farò più di un nodo poi magari tutti i figli li andremo a sistemare anche perché poi vanno nascosti attraverso il lavoro così mentre invece con un altro lembo di fettuccia vado sul dietro quindi qua tolgo il mio segnapunti e vado a creare un'asola faccio passare la fettuccia da un lato di qua e da un altro lato un po' come abbiamo fatto sul davanti così poi faccio un nodo in modo però da potermi recuperare un po' di asola perché poi con questa asola andremo a chiudere la borsa magari poi man mano che fa che la mettete vi regolate anche nella chiusura così magari l'ho messa un po' troppo tesa quindi vado a metterla un po' più lenta faccio un nodo magari più largo ed ecco fatto poi vi regolate voi come metterla magari poi la vado a sistemare un pochino diciamo che questa è una delle chiusure più semplici più facili da realizzare non necessitano di cucire bottoni oppure fare cuciture ora dobbiamo solo mettere la nostra catenella per il polso allora con il lembo di catenella e con una pinza vado ad aprire una delle estremità della catenella un cerchietto ad un'estremità questo qua lo vado ad aprire e vado ad unirlo con il cerchietto dell'altra estremità della catenella poi prendo il mio moschettone questo qua e vado ad unire anche il moschettone dentro facendomi aiutare da un'altra pinza vado a chiudere l'anello stringo un po' ed ecco che è terminato prendo la mia borsetta e inserisco il moschettone su un lato della borsa così ed ecco che la borsettina è terminata magari va solo un po' sistemata qua però questo poi lo potete fare tranquillamente voi bene magari la potete mettere al polso così e mantenerla in mano la trovo che sia comunque un'idea molto carina anche molto semplice da realizzare un progetto che si presta bene anche a poter fare un regalino all'ultimo minuto magari anche se avete un po' di fettuccia che vi avanzate da altri lavori potete realizzarla anche con del cordino ma anche con della lana insomma in base alla vostra fantasia si possono creare tantissime cose carine bene questo è il mio tutorial io spero tanto di esservi stata chiara di esservi stata utile e vi saluto e vi do un bacio al prossimo tutorial ciao